Venne poi l'anima di mia madre, Anticlea, figlia del grande Autolico, che viva avevo lasciato partendo per ilio sacra. Piansi quando la vidi, e provai pena nel cuore. E tuttavia, pur soffrendo atrocemente, non lasciavo che si accostasse al sangue prima che io interrogassi Tiresia. Giunse infine l'anima del tebano Tiresia. Impugnava uno scettro d'oro. Mi riconobbe e mi disse, Divino figlio di Laerte, Odisseo dal grande Ingegno, perché hai lasciato la luce del sole? Perché sei venuto a vedere i morti in questo tristissimo luogo? Ma dalla fossa allontanati, allontana la spada affilata, perché io possa bere il sangue e dirti la verità. Così parlò. E io indietreggiai, e riposi nel fodero la spada ornata d'argento. Dopo che ebbe bevuto il sangue scuro, allora il nobile profeta mi disse, Un dolce ritorno tu cerchi, glorioso Odisseo. Amaro invece te lo farà un Dio. Non credo che potrai sfuggire a Poseidone, all'ira che cova nel cuore perché gli accecasti suo figlio. Ma anche così, tra molte sventure, potrai arrivare, se riuscirai a frenare l'animo tuo e dei tuoi compagni, quando con la solida nave approderai all'isola Trinacchia, sfuggendo al mare e dai riflessi violacei. La troverete al pascolo le vacche e le pecore fiorenti del sole, che vede e sente ogni cosa. Se non tocchi le bestie, se pensi al ritorno, allora, pur tra molti dolori, potrete giungere ad Itaca. Ma se fai loro del male, allora io ti dico che sarà la fine per te, per la nave e per i tuoi uomini. E seppur riesci a scampare, tardi farai ritorno, e male, su una nave non tua, dopo aver perduto tutti i tuoi compagni. Troverai nella tua casa sciagure, uomini tracotanti, che ti divorano i beni, corteggiano la tua sposa divina, le offrono doni. Della loro violenza ti vendicherai al tuo ritorno. Ma quando nella tua casa avrai ucciso i pretendenti, con l'inganno o affrontandoli con le armi taglienti, prendi allora il remo e rimettiti in viaggio, fino a che giungerai presso genti che non conoscono il mare, da uomini che non mangiano cibi conditi con sale, che non conoscono navi dalle prori dipinte di rosso, né gli agili remi che sono ali alle navi. Ti indicherò un chiaro segno, che non potrà sfuggirti. Quando un altro viandante, incontrandoti, ti dirà che sulla spalla porti un ventilabro, pianta allora in terra il tuo agile remo. Offri al Dio Poseidone sacrifici perfetti, un montone, un toro, un verro che monta le scrofe, e fa ritorno a casa. Qui offri sacre e catombi agli dèi immortali che possiedono il cielo infinito, a tutti, senza escludere alcuno. La morte verrà per te lontano dal mare, ti coglierà nella vecchiaia ricca di beni, e sarà dolce. Avrai intorno a te un popolo felice. Questa è la verità che ti dico. Così parlava, e io così gli risposi. Tiresia, questo è il destino che mi hanno filato gli dèi, ma ora dimmi una cosa, e parlami sinceramente. Vedo qui l'anima di mia madre, che è morta, vicino al sangue siede in silenzio, e non guarda suo figlio negli occhi, non gli rivolge parola. Dimmi, signore, come può riconoscermi? Dissi, e subito egli rispose. Semplice è quello che ti dirò, e porrò nel tuo cuore. Se tu lasci che qualcuno dei morti si accosti al sangue, costui dirà cose vere. Se glielo impedisci, tornerà indietro di nuovo. Così disse, e tornò nelle case di Ade, l'anima di Tiresia, dopo che ebbe dato il risponso.